Musica Cilento e Vallo di Diano taglia abusivi di alberi e sequestro di pc per giochi d'azzardo, i controlli di forestale e dei carabinieri. Riforma delle BCC a Bologna, un convegno sul tema della riforma e del futuro, presente la banca a Montepruno. Padula, ieri convegno sui nuovi principi contabili OIC, promosso dalla BCC di Buonabitacolo e dall'Ordine dei commercialisti di Sala Consilina. Sassano, quinta edizione del premio Orchidea d'Argento, premiati Carlo Verna e Anna Maria Chiariello. Calcio, ultimo atto della stagione, domani playoff di prima e terza categoria. Buongiorno, ben ritrovati ad un nuovo appuntamento con le Uno News. Il personale del Corpo Forestale dello Stato ha scoperto nei comuni di Camerota e di Roccadaspide il taglio abusivo di numerosi alberi ricadenti su terreni demaniali e private in zone di particolare valenza naturale e ricadenti nel perimetro del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni. Nell'ambito dei servizi di vigilanza ambientale e controllo del territorio, finalizzati a preservare e difendere il patrimonio boschivo, il personale del Corpo Forestale dello Stato ha scoperto nei comuni di Camerota e Roccadaspide il taglio abusivo di numerosi alberi ricadenti su terreni demaniali e private in zone di particolare valenza naturale sottoposta a vincolo idrogeologico, nonché ricadenti nel perimetro dell'area protetta del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni. Il comando della stazione forestale di San Giovanni Appiro ha rilevato all'interno di una proprietà boscata privata la presenza di una ditta boschiva intenta ad eseguire operazioni culturali di taglio ed esbosco di materiale legnoso. Le indagini condotte hanno consentito di accertare che le attività di taglio e utilizzazione boschiva venivano eseguite in carenza delle necessarie autorizzazioni dell'ente delegato. Infatti il taglio veniva eseguito in completa assenza di autorizzazione della comunità montana competente per territorio e in difformità e in contrasto a quanto stabilito nella nulla osta rilasciato dall'ente Parco. Accertato l'abuso, le giube verdi denunciavano a piede libero alla Procura della Repubblica di Vallo della Lucania il titolare della ditta boschiva. Il comando della stazione forestale di Capaccio in località Noce di Vreglia in agro di Roccadaspite ha riscontrato il taglio abusivo da parte di ignoti di circa 150 piante di alto fusto in un complesso boscato molto vasto di proprietà comunale. Tutta la legna da ardere di circa 700 quintali in parte già depezata e pronta per essere trafugata è stata sequestrata e data in custodia al Comune. Le indagini proseguono al fine di ricostruire e trovare utili elementi per assicurare alla giustizia i responsabili dello scempio. In entrambi i casi le segnalazioni sono giunte al Corpo Forestale da privati cittadini a testimonianza di una sinergia vincente tra cittadinanza e istituzione. E' ancora cronaca nella nottata i controlli della Compagnia dei Carabinieri di Sala Consilina su tutto il territorio del Vallo di Diano. In particolare a Monte San Giacomo sono stati sequestrati i PC per giochi con vincite in denaro. Numerosi controlli ed accertamenti anche alla circolazione stradale. Continua l'azione dei Carabinieri della Compagnia di Sala Consilina finalizzata a garantire la sicurezza sul territorio e la prevenzione dei reati. Ieri sera numerosi controlli su tutta l'area di competenza dei militari con specifici accertamenti all'interno e fuori dei locali. In particolare a Monte San Giacomo i militari della locale stazione hanno effettuato controlli all'interno di un bar con il supporto del personale dell'Agenzia delle Entrate. A seguito verifiche è stato accertato l'esercizio di attività di scommesse senza la prevista autorizzazione dell'autorità di pubblica sicurezza chiamata ad autorizzare l'uso e l'installazione di apparecchiature telematiche per giochi con vincite in denaro. A seguito dell'attività di controllo e verifica i militari hanno elevato una sanzione amministrativa nei confronti del titolare del bar di 22.000 euro. Inoltre sono stati posti sotto sequestro e persano al computer utilizzati per l'esercizio delle scommesse e carenti di autorizzazione. I militari della compagnia di Sala Consilina al comando del capitano Emanuele Corda hanno inoltre eseguito controlli sulle strade del territorio. Attività che ha portato all'individuazione di un giovane di Sala Consilina che a seguito perquisizione veicolare è stato trovato in possesso di 0,5 grammi di sostanza stupefacente di tipo marijuana posta sotto sequestro. Al ragazzo è stata ritirata la patente di guida. Controlli alla guida che sono proseguiti durante tutta la notte nei pressi dei locali pubblici con 30 giovani sottoposti all'accertamento etilometrico con esito negativo. In totale nell'ambito dei controlli alla circolazione sono 20 le contravvenzioni elevate per mancato uso della cintura, uso del cellulare alla guida, eccesso di velocità con un decurtamento di punti dalla patente. E ancora cronaca, i carabinieri della stazione di Sapri hanno denunciato una 32enne sorpresa alla guida di un'auto senza aver mai conseguito la patente e con un tasso alcolemico superiore al consentito. Le segnalazioni pervenute dal 112 da parte di alcuni cittadini che hanno visto procedere l'auto a zigzag hanno fatto immediatamente scattare l'allarme e le pattuglie dei carabinieri che subito si sono portate nel centro di Tortorella in provincia di Salerno dove l'auto senza controllo aveva già danneggiato diverse auto in sosta. Individuata la donna è stata prontamente fermata evitando così conseguenze più gravi. La 32enne aveva un tasso alcolemico pari a 2,4 grammi per litro, molto più alto rispetto al limite consentito che è di 0,5 grammi per litro. Cambiamo argomento, i temi per la riforma delle banche di credito cooperativo sono tanti e i timori delle gravi conseguenze in particolare per il Sud Italia al momento tra le aree maggiormente interessate dalla crisi. A Bologna ieri il direttore generale della Banca Montepruno Michele Albanese ha illustrato i rischi e i problemi che una tale riforma comporterebbe nell'ambito di un incontro svoltosi presso l'Emil Banca di Credito Cooperativo. Non si plaga il timore che piuttosto si alimenta in totale silenzio relativo alla riforma delle banche di credito cooperativo. Una riforma su cui Banca d'Italia e Governo continuano a lavorare restando ferma nell'idea di non coinvolgere i responsabili del credito cooperativo. Su tutto il territorio nazionale continuano e si moltiplicano gli incontri per informare cittadinanza e soci delle conseguenze di una riforma che porterebbe ad equiparare le BCC a tutte le altre banche nazionali con i vertici e una sede centrale da cui partono le direttive decisamente decentrata rispetto ai territori marginali e periferici con una sede nazionale. Da questa sede centrale, molto probabilmente a Roma, partirebbero le direttive di gestione delle BCC. A parlare di questo e dei numerosi altri problemi che andrebbero prevalentemente a penalizzare ancora una volta le aree interne e che maggiormente necessitano di sostegno e supporto per l'economia, è stato Michele Albanese, direttore della Banca Montepruno. Nell'ultimo incontro svoltosi presso la sede della Emil Banca di Credito Cooperativo a Bologna e organizzato dal sindacato nazionale dirigente del Credito Cooperativo. Tema dell'incontro, la riforma del Credito Cooperativo. Quale futuro? Un futuro sicuramente incerto, soprattutto per i territori piccoli e le aree interne dove le banche di Credito Cooperativo operano con maggiore intensità, dimostrandosi spesso unica fonte di ossigeno per le piccole e medie imprese locali e per le famiglie. Alla presenza degli esponenti del Sina di Credito Cooperativo, il direttore della Banca Montepruno ha avuto modo di esporre e spiegare nel dettaglio il documento presentato in collaborazione con la BCC di Acquara e pubblicato su diverse testate giornalistiche, in cui si sottolineano in tre punti le eventuali conseguenze di una riforma così come vuole essere concepita dal Governo. C'è il rischio di diventare sportelli di una grossa banca, non più organismi autonomi e propositivi, diventando come tutti gli altri istituti di credito e perdendo quindi la peculiarità che ha fatto delle BCC istituti di credito utili nella loro diversità. C'è un rischio ancora maggiore per il Sud Italia che perderebbe anche l'ultimo centro decisionale bancario rimasto, ricordando che tutti i centri decisionali sono situati da Roma in su. Altro che preoccupazione e risoluzione della questione meridionale, il Sud Italia con tale riforma rischierebbe di essere ulteriormente impoverito, cancellando il concetto di banca locale e nessun sostegno economico potrebbe arrivare alle piccole e medie imprese dell'area Sud, con conseguenti rischi di ulteriore impoverimento della zona a discapito di territori già più avvantaggiati. A tutto ciò si aggiunge il concreto rischio di un aumento della disoccupazione con la creazione di esuberi a seguito dell'emanazione della riforma. Si calcola circa 3.000 unità. Il documento presentato a Bologna dal direttore albanese inoltre propone anche idee di riforma che vadano a meglio intersecarsi a rendere più funzionale il ruolo del credito cooperativo, idee che al momento non vengono neanche ascoltate con gli organi decisionali che sembra siano interessati solo a perseguire nelle loro idee di riforma, senza tener conto delle peculiarità delle banche di territorio. Le BCC, si legge nel documento presentato da Montepruno e Acquara, hanno bisogno solo di modificare la propria governance e non il modello di business. Invece assistiamo al varo di una riforma vallata da pochi uomini di vertice del nostro movimento, da coloro i quali dovevano vigilare e non l'hanno fatto. Forse dovevano vigilare su loro stessi. I principi contabili dell'organismo italiano Contabilità, questo il titolo del convegno che si è svolto ieri a Padula. L'incontro moderato da Raffaele D'Alessio, presidente della Commissione Principi di Revisione del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti, ha visto la partecipazione di Gaetano Romanelli, presidente dell'Ordine dei Commercialisti e Contabili di Sala Consilina, del consigliere nazionale dei Dottori Commercialisti e Contabili Raffaele Marcello e del presidente della BCC di Buonabitacolo, Angelo De Luca, che rappresentava l'istituto di credito che ha promosso questa iniziativa. Ascoltiamo adesso le interviste a margine dell'incontro. Oggi è un giorno importante perché si riunisce il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti sui nuovi principi contabili delle società di capitale. È un aspetto assolutamente importante e prioritario perché dopo Basilea e con la crisi che c'è stata noi guardiamo l'aspetto da un punto di vista bancario e bancariamente per noi nel valutare il metodo creditizio è importantissimo che all'aspetto qualitativo che una volta aveva un ruolo assolutamente preeminente ci sia anche quello quantitativo, quindi dei bilanci, situazione patrimoniale, conto economico e redditività. Quindi nella valutazione del cliente quello che era una volta un'incidenza notevole dell'aspetto della conoscenza, oggi diciamo è al secondo piano e si va verso più un aspetto tecnico di sopportabilità di un affidamento bancario. Quindi oggi vedremo i nuovi principi della società di capitale che per noi sono estremamente importanti perché i commercialisti, più che commercialisti consulenti, debbono dare delle indicazioni precise a fare dei bilanci sempre più trasparenti e sempre più bancari. L'argomento è altamente specialistico, siamo all'esame dei principi contabili nazionali e in particolare all'esame degli aggiornamenti che si sono avuti dal 1 gennaio 2015, in vigore dal 1 gennaio 2015, sui principi contabili nazionali, sostanzialmente sui principi che attengono alla formazione del bilancio e quindi all'iscrizione delle poste nel bilancio. Oggi è un convegno di alta formazione molto specialistico, interviene il consigliere nazionale professore Raffaele Marcello, che ci farà l'onore, tra l'altro Presidente della Commissione dei Principi Contabili del Consiglio nazionali e dottori commercialisti, ci farà l'onore e il piacere di illustrare le novità che attengono a questa materia, fondamentale per ogni collega che volesse avvicinarsi alla stesura di un bilancio. Tenere conto di regole che sono condivise e di principi che attengono alla valutazione e quindi indicarli in ogni relazione ma anche nel proprio lavoro e tenerli fronte proprio come una stella cometa della formazione del bilancio è fondamentale. Conoscerli nella loro natura e nel loro aggiornamento è ancora una, secondo me, priorità per chiunque opera in questo settore. L'evento di oggi rientra in un calendario allargato nazionale che il Consiglio nazionale sta portando avanti affinché i colleghi possano in maniera chiara approcciare quelli che sono i nuovi principi contabili nazionali. Qui l'Organismo Italiano di Contabilità ha intervenuto in maniera chiara e ha dato una nuova formula a queste raccomandazioni contabili e noi stiamo tentando sul territorio di far comprendere ai colleghi se mai ce ne fosse bisogno l'importanza di ricorrere ai principi contabili nella predisposizione dei bilanci. Tutto questo chiaramente deve fare in modo che il commercialista abbia un punto di riferimento che è costituito dalle nuove raccomandazioni contabili che, da un punto di vista anche visivo, si presentano in maniera più fruibile rispetto ai precedenti ed è questa la vera novità e tra l'altro si avvicinano sempre di più agli standard center internazionali. Da questo punto di vista l'Italia risponde in maniera concreta a quelle che sono le sollecitazioni europee. Questa mattina, quinta edizione del premio Orchidea d'Argento a Sassano, un evento quest'anno che è stato realizzato in concomitanza con il corso di formazione di giornalisti sul tema il giornalismo e l'antimafia, che ha visto la partecipazione del giudice antimafia Catello Maresca, del presidente dell'ordine dei giornalisti della Campania Ottavio Lucarelli, ma anche del giornalista Edoardo Scotti. Nel corso della mattinata è stato inoltre consegnato il premio Orchidea d'Argento ai giornalisti Carlo Verna della RAI e Anna Maria Chiarello di Mediaset. Si è svolta questa mattina presso l'Aula Consiliare del Comune di Sassano la quinta edizione del premio Orchidea d'Argento. I premiati di quest'anno sono il giornalista RAI Carlo Verna e la giornalista Mediaset Anna Maria Chiarello. Una edizione, siamo alla quinta, del premio Orchidea d'Argento che troverà e vede la partecipazione anche del giudice antimafia Catello Maresca. Il premio Orchidea d'Argento ormai prende sempre più piede, annovera ogni anno personaggi illustri del panorama del giornalismo italiano e a fare, come di consueto, gli onori di casa in questa manifestazione il sindaco di Sassano, Tommaso Pellegrino. Devo dire che ormai con la quinta edizione del premio giornalista Orchidea d'Argento stiamo diventando importanti da un punto di vista proprio del ruolo di questo premio che ha nel panorama nazionale. Oggi e quest'anno c'è stato questo ulteriore riconoscimento da parte dell'Ordine dei giornalisti della Campania con il Presidente Ottavio Lucarelli che ha organizzato qui in contemporanea un corso di formazione particolarmente sentito e importante sul tema della giustizia e dell'antimafia e ogni anno effettivamente ormai cresce l'attesa e cresce anche il ruolo del premio giornalistico Orchidea d'Argento. Quest'anno i due giornalisti premiati sono Carlo Verna della RAI che è il Vice Presidente delle TGR del Sud e Anna Maria Chiariello inviata del TG5 quindi di Mediaset. Sono due giornalisti che sono contraddistinti e distinti soprattutto per il loro equilibrio, per la loro capacità e il messaggio che noi vogliamo lanciare soprattutto ai tanti giovani che ti affacciano al giornalismo perché io lo ripeto sempre oggi è anche il modo per dire grazie a coloro che con sacrifici fanno il giornalismo nel nostro territorio perché io ritengo e penso che il ruolo di chi oggi si occupa di questo lavoro per il Vallo di Diano, per il Cilento, per il Golfo di Policastro per la zona sud soprattutto di Salerno cioè zone un pochino più che hanno una serie di difficoltà è importante invece valorizzarle, è importante veicolare i messaggi giusti ma è importante veicolare anche le tante importanti iniziative che si fanno quindi oggi è anche un modo per dire grazie ai nostri giornalisti ed è un modo per dire ai nostri giovani ci sono dei modelli come Carlo Verna, come Anna Maria Chiariello come Edoardo Scott che oggi sarà qui con noi come Ottavio Lucarelli che devono rappresentare per i più giovani innanzitutto uno simolo e un punto di riferimento questo è l'obiettivo della giornata di oggi ed è bello poter far interagire i nostri giovani giornalisti con dei giornalisti ormai affermati che occupano dei ruoli importanti a livello nazionale questo è il senso del premio giornalistico Orchide d'Argento ed è un modo anche per far capire sempre di più che Sassano è il paese delle orchidee e d'altra parte ci siamo ispirati alle nostre orchidee proprio per la consegna e la realizzazione di questo premio e ascoltiamo adesso le interviste realizzate a margine dell'incontro al presidente dell'ordine dei giornalisti della Campania Ottavio Lucarelli e a uno dei premiati della quinta edizione del premio Orchide d'Argento Carlo Verna D'Andalusa all'ordine benissimo infatti mi piace moltissimo questa tua definizione noi abbiamo messo assieme due eccellenze innanzitutto l'eccellenza del Vallo di Diano Sassano il premio Orchidea che è un'idea appunto nata alcuni anni fa su iniziativa del sindaco Tommaso Bellino che ha coinvolto dal primo momento l'ordine dei giornalisti della Campania e siccome appunto dall'anno scorso per legge dobbiamo organizzare e devo dire i colleghi l'hanno trasformato da obbligo in piacere questi corsi di formazione che facciamo in tutta la Campania non c'era migliore occasione per accoppiare il premio Orchide d'Argento ad un corso di formazione e aggiornamento professionale non è il primo che facciamo nel Vallo di Diano già l'anno scorso ne abbiamo organizzato uno a dicembre altri corsi sono stati organizzati nel Vallo però oggi è chiaro che l'accoppiamento corso di aggiornamento premio Orchide d'Argento veramente insomma da lustro al nostro ordine possiamo dirlo ecco da lustro a tutti gli iscritti del Vallo ma anche un po' di tutta la Campania è un appuntamento importante vengono colleghi anche da altre regioni oggi sono naturalmente molto contento di questa opportunità che mi viene data questo territorio un territorio che ho amato apprezzato e amato soprattutto negli ultimi anni quando ho in qualche modo io sono sempre stato in corsiera amalfitana perché per questioni di vicinanza a Napoli tendevo ad andare nelle località dove mio padre da ragazzino mi portava da una quindicina d'anni ho scoperto questo territorio in particolare spesso vado a Scario un po' di castro Scario e di lì in qualche modo mi dilungo in questi luoghi bellissimi la Valle delle Orchidee io credo che questo discorso della Valle delle Orchidee debba essere sviluppato più volte noi come TGR Campania ne abbiamo parlato dovremmo farlo di più ci sono delle località qui in Cilento che meritano di essere valorizzate questo è un discorso che noi come stampa dobbiamo fare abbiamo anche la responsabilità di promuovere un territorio dobbiamo raccontare naturalmente anche le cose che non vanno ma dobbiamo anche lumeggiare le cose positive le cose che non vanno se parliamo dei territori campani parlavo prima anche con altri colleghi qui c'è proprio la situazione delle contraddizioni qui siamo in un territorio incontaminato dove domina l'ambiente dove c'è quasi il record in Campania degli ultracentenari però la Campania è anche il territorio della terra dei fuochi ci sono delle problematiche che sono in ogni caso da affrontare mi fa piacere che mi ritrovi in un contesto di questo genere proprio all'indomani di un'enciclica di Papa Francesco che tratta i temi dell'ambiente quindi credo che questi saranno temi importanti da trattare e da seguire e dal 22 giugno ci sarà una nuova apertura per l'elettromeccanica Paciello che si trasferirà nella nuova e più ampliata sede di Silla di Sassano ubicata nella zona industriale si implementano i servizi offerti oltre al servizio di meccanica ed elettronica l'esperienza e la qualità sarà messa a disposizione dei clienti anche per le attività di gommistica per la climatizzazione riconosciuto punto pro autoservice e gruppa auto elettromeccanica Paciello di Giovanni Paciello metterà a disposizione della propria clientera anche aree informazioni con una reception e la disponibilità di conoscere i servizi di cui è possibile usufruire in uno spazio più vasto resterà comunque operativo per le prossime settimane il centro al momento ubicato a Trinità di Sala Consilina adiacente al supermercato il quadrifoglio in attesa del trasferimento definitivo dell'attività a Silla di Sassano con questa notizia si conclude la prima parte dell'Euno News ci vediamo dopo la pubblicità per la seconda parte seconda parte dell'edizione pomeridiana dell'Euno News andiamo a Polla ieri presso il centro sociale Don Bosco è stato presentato il pellegrinaggio che si svolgerà presso la Terra Santa dal 20 al 27 agosto prossimo l'incontro è stato organizzato dal responsabile dell'ufficio diocesano per la pastorale del tempo libero turismo e sport Don Paolo Longo e ha visto la presenza del vescovo della diogesi di Tegiano Molicastro Monsignor Antonio De Luca e del responsabile delle opere pellegrinaggi di Napoli il dottor Mario Russo Cirillo la diocesi di Tegiano Molicastro si prepara al pellegrinaggio in Terra Santa ieri presso il centro sociale Don Bosco i partecipanti al viaggio che si terrà dal 20 al 27 agosto hanno presenziato ad un incontro con il vescovo Monsignor Antonio De Luca per prepararsi al meglio ad una sette giorni in cui saranno ripercorsi i luoghi più importanti della vita di Gesù e della sacra sua famiglia Nazareth, Betlemme ma anche le rive del fiume Giordano senza dimenticare il Santo Sepolcro un percorso che farà rivivere attimo per attimo passo per passo i diversi punti di riferimento del Vangelo passando anche per le aree dove fu manifestata la divinità di Gesù con i miracoli come Cana toccare con mano e vivere con intensità i luoghi simbolo della vita cristiana ma essere preparati e coscienti dell'importanza del pellegrinaggio ieri presso il Centro Sociale Don Bosco il responsabile di opera pellegrinaggio italiana dottor Mario Russo Cirillo ha illustrato nel dettaglio come sarà articolata la settimana di pellegrinaggio in Terra Santa e quali saranno i luoghi che verranno visitati noi intraprenderemo questo cammino di fede verso la terra di Gesù è sempre un'emozione particolare quella di recarsi alle radici della nostra fede quindi per noi pellegrini è un vivere un momento di spiritualità forte che faremo negli otto giorni di permanenza in Terra Santa partiremo da Napoli e ritorneremo a Napoli con un aereo speciale e per gli otto giorni visiteremo la Terra Santa nelle sue regioni della Galilea, della Samaria e della Giudea percorreremo proprio il nostro andare verso Dio sulle orme di Gesù nei luoghi dove la parola si è fatta carne ed è venuto ad abitare in mezzo a noi quindi noi cercheremo di percorrere e di passare dei giorni di preghiera e di spiritualità proprio per cercare di realizzare questo momento di fede e di incontro con il Signore Monsignor Antonio De Luca invece si è soffermato in particolare sul senso spirituale della visita in Terra Santa e dell'importanza che i luoghi che ci si reca a visitare rappresentano per i fedeli Nella prospettiva cristiana il pellegrinaggio racchiude un po' la parabola della vita siamo uomini in cammino l'uomo viator è un uomo di speranza e quindi il pellegrinaggio ci fa prendere consapevolezza di questa precarietà ma anche di questa certezza sapere da dove veniamo, verso dove andiamo, perché camminiamo l'incontro dei popoli, la riconciliazione, la pace e il Vangelo che diventi progetto di vita e domani sera in occasione dell'inaugurazione di piazza Domenico Pica a Sant'Arsenio si terrà l'ultima serata della trasmissione Angolo in Musica ideata e realizzata dall'associazione I Due Volti della Luna preseduta da Gerardo Costa con il maestro Francesco Rizzo di Maratea Web Radio e di Vittoria Benvenga l'evento musicale che vedrà l'esibizione dei giovani cantanti del territorio sarà presentato da Velia Imparato e Gerardo Costa con la partecipazione di Pietro Cusati il special guest della manifestazione invece Enzo Guariglia nel corso della serata si terrà la cerimonia di premiazione per i vincitori delle serate svoltesi nei locali del territorio durante la stagione invernale e cambiamo argomento ci avviamo verso l'estate ma soltanto il 31% degli italiani trascorrerà una settimana di vacanza lontano da casa sono i dati emersi da un'indagine di Feder Consumatori la crisi economica infatti lascia preferire agli italiani i classici weekend un'indagine condotta dall'osservatorio nazionale Feder Consumatori ha rilevato che soltanto il 31% degli italiani cioè poco più di 18 milioni e mezzo di persone andrà in vacanza quest'estate restando lontano da casa almeno per una settimana questo risultato è stato estrapolato sulla base di un campione statistico composto da famiglie residenti in tutta Italia sia nei piccoli centri che nelle grandi città analizzando anche i primi dati sull'andamento di giugno si conferma, spiegano i consumatori purtroppo, la forte contrazione della domanda turistica iniziata in questi anni basti pensare che il numero di cittadini che vanno in vacanza è passato dai circa 30 milioni nel 2008 ai poco più del 18 milioni e mezzo di persone stimati nel 2015 i pochi che partiranno lo faranno soprattutto all'insegna del risparmio cercando l'ospitalità presso amici e parenti nonché avventurandosi nelle sperimentazioni di formule innovative come lo scambio di casa molti, proseguono i consumatori preferiranno invece le vacanze mordi e fugi con soggiorni sempre più brevi le tendenze in questo senso sono soprattutto orientato verso le capitali europee o esperienze e percorsi enogastronomici emerge in tal senso sempre più chiaro il contrasto con il 10% delle famiglie molto benestanti che sceglieranno mete di lusso un andamento drammatico soprattutto se si pensa che il turismo è un settore chiave per l'economia del nostro paese il rilancio di tale comparto rappresenta un'enorme opportunità di crescita occupazionale e di sviluppo dichiarano Rosario Trefiletti ed Elio Lanutti per questo è fondamentale favorire il miglioramento dell'offerta turistica in Italia ed avviare di pari passo un serio piano di rilancio del potere d'acquisto delle famiglie Ed ora lo sport domani ultimo atto del calcio giocato tra i dilettanti si disputano le finali di playoff di prima categoria e di terza categoria nel prossimo servizio in dettaglio tutti gli incontri che chiudono così la stagione sportiva 2014-2015 mentre molte squadre lavorano già in vista della prossima stagione annunciando allenatori, giocatori e staff altre squadre, e sono poche sono ancora impegnate nei playoff della stagione sportiva 2014-2015 domani pomeriggio andranno in scena gli ultimi atti dei campionati di prima e terza categoria i playoff di prima categoria saranno importanti ma non decisivi visto che la FIGC ha disposto la riserva di priorità assoluta per le quattro società perdenti ad essere così ammesse al prossimo campionato di promozione le gare, tutte in programma domani alle 16.30 vedranno di fronte Real, Reano, Il Pino, Onved, Coperchia, Rinascita, San Giovannese, Quartograd Taverola, Vigor, Castellabate, Taurano, Centro Storico, Salerno in base alla classifica pubblicata sul comunicato di giovedì 18 giugno quindi per le seconde classificate del girone G e del girone H rispettivamente Centro Storico, Salerno e Vigor, Castellabate solo match esterni e sarà necessario vincere perché se permane il pareggio al termine dei tempi regolamentari si andrà ai supplementari e in caso di ulteriore parità vincerà lo spareggio la squadra di casa anche nel campionato di terza categoria a provincia di Salerno siamo all'ultimo atto della stagione gli incroci dei sei gironi sono San Marzano, Cava United Sporting, Ponte Cagnano, Atletico Campagna Atletico Saracena, Sporting, Battipaglia Siciliano, Santa Maria delle Grazie Rutino, Gioi, New Massa, San Nicola, Calcio in caso di parità al termine dei 90 minuti si procederà anche qui con i tempi supplementari e in caso dovesse persistere il pareggio non si procederà ai tiri di rigore ma risulterà vincente la squadra di casa in virtù del miglior piazzamento in classifica al termine della stagione regolare Termina qui l'edizione pomeridiana dell'Euno News vi ringrazio per l'attenzione e vi auguro un buon proseguimento di giornata a un buon proseguimento di giornata